La povertà educativa territoriale è uno dei tanti gap che la Calabria deve colmare. Dalla diciottesima edizione dell'Atlante dell'infanzia diffuso da Save the Children riguardo la Calabria, si evince che solo il 2,8% dei bambini sotto i tre anni accede ai nidi pubblici o convenzionati. La Calabria è la regione con il più alto tasso di mortalità infantile, 4,42 ogni mille abitanti e registra il 32% di povertà infantile contro il 22% della media nazionale. Giussi Princi, vicepresidente della regione con delega all'istruzione, ha coordinato il forum sul sistema integrato di educazione e istruzione 06, in cui è stata presentata a parti sociali e sindacali la programmazione educativa e finanziaria. Una regione che vuole qualificare e creare servizi educativi per l'infanzia deve condividere con tutti gli attori le linee programmatiche e le risorse finanziarie da destinare alle realtà locali per il panorama infanzia. Oggi con 70 milioni di euro andremo a condividere con tutti quanti gli attori del nostro territorio, quindi parlo del Lanci, parlo dei 32 ambiti territoriali sociali, parlo dell'USR, dell'università e quindi di tutto quanto il panorama legato ai servizi educativi per l'infanzia. Andremo a condividere quella che è la nostra programmazione educativa e finanziaria, perché vogliamo che i prossimi anni siano caratterizzati dall'ampliamento delle strutture legate all'infanzia, strutture moderne e funzionali, ampliamento dei servizi educativi, e quindi più sezioni primavera, più nidi, più micronidi, abbattimento delle rette a carico della famiglia, più formazione, formazione che vada a coinvolgere tutto il personale docente ed educativo delle scuole pubbliche e private di tutti i servizi educativi, quindi più poli educativi per l'infanzia e più coordinamenti pedagogici, e quindi un grande raccordo anche con l'USR affinché realmente la nostra, come abbiamo sempre detto con il Presidente Occhiuto, sia sempre di più una regione a misura di bambino. Fare squadra con tutti gli attori per promuovere l'accessibilità dei servizi educativi. L'obiettivo è quello di raggiungere il 33% di popolazione sotto i tre anni con una graduale copertura dei servizi educativi nei comuni fino al 75%.